Matrimoni, battesimi e comunioni, feste di laurea, diciottesimi compleanni, ma anche gare sportive, saggi di danza, eventi sociali che sono stati cancellati per mesi a causa delle restrizioni coronavirus, proprio tra la primavera e l'estate, momento del picco di stagione per chi è abituato a documentarli. Il Covid-19 ha inflitto un duro colpo ai fotografi. I professionisti che hanno saputo reggere alla crisi del settore coincidente con il passaggio al digitale, si sono trovati nel giro di pochi giorni a vedere cancellate le agende degli appuntamenti, lavori per i quali avevano investito in fiere e attività di promozione. Adesso, dopo la chiusura forzata, la ripresa è lenta e le spese fisse restano, come spiega Giuseppe Chiodini dello studio Chiodini di Viale Borgo Valzugana, che quest'anno ha raggiunto i 20 anni di attività. Da quando si è riaperto, praticamente dopo due mesi e mezzo di chiusura totale, appena abbiamo riaperto, le prime osse che sono arrivate, le persone, i fornitori che dovevano riscuotere, sono arrivati subito, giustamente, però noi in questi due mesi e mezzo non si era guadagnato niente. Io da allora ora, per dire, ho fatto un matrimonio, mi è capitato di fare un matrimonio di stranieri, però ho un servizio di poche ore, sicché anche l'introito è stato abbastanza basso rispetto al matrimonio completo, come si fa di solito, diciamo. Poi per il resto, ad ora, il prossimo servizio ce l'ho praticamente i primi di settembre. A settembre qualcosa si farà, però dopo, a esperienza degli altri anni, il periodo che è finito il matrimonio di settembre, cioè non c'è certezza e questa cosa, vi dico la verità, almeno a me mi mette ansia. A Chiesa Nuova il fotografo Alessandro Fabri da tempo lavorava al trasferimento in uno studio più ampio, sempre sulla via Montalese, dove è presente dal 2011. Il coronavirus ha complicato le cose, ma non ha impedito il progetto. L'inaugurazione del nuovo negozio, con laboratorio e sala posa Open Space, è avvenuta un mese fa alla ripresa delle attività economiche. Se si guarda l'anno scorso, questo era ovviamente il pieno, il boom della stagione, quindi tutti i fini di settimana erano completi, tutte le date erano esaurite. Maggio, giugno, parte di luglio, insomma. Quest'anno ho riaperto con un portfolio ordini pari a zero, però ecco il messaggio positivo è che la scorsa settimana è stato fatto il primo battesimo, la prima cerimonia, è stato molto bello ripartire tutti insieme. La creatività è componente essenziale nel lavoro dei fotografi, così si cerca di superare questo momento difficile con l'ingegno. Il sorriso della figlia di Giuseppe Chiodini campeggia sul prototipo di coprimascherina, un oggetto che può essere personalizzato così, facendo stampare il proprio sorriso. Alessandro Fabri, abituato a documentare i saggi finali di una scuola di danza, ha invitato le giovani danzatrici e i loro genitori nel suo studio. Quest'anno invece ho detto perché non venite voi da me, queste bimbe, tutte queste bambine che hanno lavorato duro tutto l'inverno, avranno la loro foto nel loro abito di danza e avranno e le loro ricordo.